Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato. Io mi candido solo ad essere il più benvoluto presidente della Salernitana. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica vera aspirazione. E' quanto ha dichiarato il presidente della Salernitana Calcio ed editore dell'Espresso Danilo Iervolino, smentendo le indiscrezioni che lo hanno accreditato come candidato sicuro in Campania di Forza Italia nel centro-destra. Ieri sera la diffusione della notizia che Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, squadra di calcio che milita nella Serie A ed anche editore dell'Espresso, era stato candidato con Forza Italia il partito di Silvio Berlusconi nel collegio proporzionale di Salerno. Un lancio di agenzia che immediatamente ha avuto un ampio risalto mediatico a livello nazionale, ma la notizia stamattina è stata subito calmierata da un post sui social dello stesso Iervolino che ha smentito la sua candidatura nelle liste di Forza Italia. Un post che ha immediatamente riscosso tanti commenti e like, dove si evince un sospiro di sollievo di tanti tifosi e simpatizzanti che non hanno mancato di esprimere le loro considerazioni sulla pagina Facebook del presidente, invitandolo a lasciastare la politica e a pensare ai Granata.